Apri. Lasciala andare. Dottoressa, ho appena saputo che stavi cercando dieta a Levi. Non volevo rischiare. Ti vedo in forma, cantalupo. Getta le pistole. Vuoi morire insieme alla tua amichetta? Non puoi sparare a tutte e due, De Silva. Io vi buco a tutte e due. Non puoi spararmi, sei sbirra. Arrenditi. Gli spari. Arrenditi. Gli spari. Troppo tardi. Ho catturato da due femmine. Buongiorno, signori. Eravamo in pensiero. Buongiorno, signori. Grazie. 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 Grazie.